Il porto è un'autorità portuale, dove la Presidente della Commissione Trasporti Paita ha incontrato il Presidente Musolino e illustrati tanti nuovi progetti che riguardano il porto. A due mesi dall'inizio della campagna vaccinale, l'ASL Roma 4 tira le prime somme. Su oltre 300.000 residenti sono state vaccinate 23.000 persone, boom tra i pediatri, di libera scelta arrivati al 99%. Qualcosa si muove sul fronte uscivici, ne dà la notizia il segretario cittadino dell'APD Giannini, per il quale la Regione Lazio ha deciso di muoversi, e i consiglieri di Fratelli d'Italia, Galizia e Palombo. E' polemica politica, dopo l'invito del Sindaco tedesco ai consiglieri, per una visita a Torre Valdarica Sud, su invito di Tireno Power. L'ho fatto solo per correttezza e trasparenza, spiega il primo cittadino. Collegiale nazionale alla Lega Navale di Civitavecchia, tanti windsurfer da tutta Italia, per provare la nuova tavola olimpica IQ Foil. Il tutto sotto gli occhi attenti del tecnico federale Stella. Buonasera dal nostro telegiornale, apriamo con il Porto, visita speciale questa mattina in autorità portuale, dove la Presidente alla Commissione Trasporti, Raffaella Paita, ha incontrato il Presidente Pino Musolino, insieme ad altri parlamentari di tutte le forze politiche che fanno parte della Commissione. Dopo un vero e proprio tour dello scalo cittadino, si è svolta una conferenza stampa della quale sono stati illustrati i nuovi progetti che riguardano il Porto, con particolare riferimento alla Darsena Grandi Masse, il retroporto e il completamento della Orte Civitavecchia. Uno degli obiettivi del Presidente Musolino è quello di far entrare il Porto di Civitavecchia nella rete Cor. Sentiamo le interviste e stralcio della trasmissione L'Osservatorio Porto, che andrà in onda stasera alle 21, subito dopo il nostro telegiornale. Io sono molto soddisfatto che la Commissione Trasporti della Camera abbia trovato il tempo e anche la volontà di venire a visitarci, nonostante il tempo di Covid, e di farlo di persona, perché poi ovviamente il passaggio in barca, io l'ho sempre fatto, l'ho fatto ogni volta che ho avuto ospiti istituzionali, perché io credo che i porti debbano essere visti dall'acqua, perché i porti hanno naturalmente la necessità di essere visti col punto di vista dell'utente, che viene dal mare e quindi permette di capire molto di più e molto meglio di mille slides o di mille progetti su carta, quali sono le difficoltà e quali sono i punti di forza del porto. La Commissione è stata una Commissione estremamente preparata e attenta, questo lo sapevo già, ma ha maggior ragione, ci hanno non solo ascoltato, ma hanno anche verificato con i loro occhi l'enorme potenziale ancora poco espresso da parte del porto di Civitalecchia. Poi noi abbiamo ovviamente parlato anche di Fiumicino e Gaeta, ma ovviamente Fiumicino e Gaeta non sono riuscito a portarli ovviamente col rimorchiatore. Però questo è un importante segnale, una serie di questioni sono state poste sul tavolo, a partire dalle richieste di recovery, noi siamo felici di quello che è stato già inserito, ma vorremmo vedere inserita anche la darsena energetica a grandi masse, tra le opere qualificanti e se volete anche tra le opere che hanno il potere trasformazionale che il recovery dovrebbe avere sull'economia e sul tessuto produttivo italiano. Noi riteniamo che questa sia un'opera non tanto e non solo per il territorio di Civitalecchia, ma che abbia anche una valenza e una degnità per l'intera economia, il territorio produttivo regionale e nazionale, quindi riteniamo che sia una proposta valida da presentare al Governo e al Parlamento rispetto alle priorità che il piano di recovery dovrebbe avere. Abbiamo voluto iniziare questa seconda fase di attività della Commissione Trasporti con una visita al porto di Civitavecchia, proprio a testimonianza dell'importanza che attribuiamo a questa realtà e anche dell'attenzione che il Parlamento vuole dimostrare nei confronti della comunità portuale ma anche della città complessiva di Civitavecchia. Peraltro non solo siamo stati guidati in questa visita dal Presidente Musolino, ma abbiamo avuto anche la possibilità di avere un colloquio con il Sindaco della città di Civitavecchia che ovviamente ringraziamo. Qui ci sono grandi progetti, ci sono grandi idee, questo porto chiede di essere messo nella condizione di poterle portare avanti nell'interesse ovviamente della realtà del Lazio ma anche del sistema paese complessivamente. Quindi abbiamo chiesto che i progetti del recovery che erano stati segnalati dall'autorità portuale vengano ricompresi anche in questa nuova stesura, definizione del piano europeo e abbiamo chiesto che ci siano anche ulteriori progetti a supporto dell'attività portuale e poi di iniziare una discussione molto alta di visione sul ruolo che la centrale Enel dovrà avere naturalmente e soprattutto per la tutela ambientale, per le attività produttive di questa comunità ma anche per quello che può costituire in termini di opportunità un'innovazione come per esempio potrebbe essere l'utilizzo di nuove tecnologie a servizio dell'attività portuale. Spazio al Covid, numeri in ribasso quest'oggi per Civitavecchia nel report giornaliero della ASL Roma 4 e della Regione Lazio. Nella nostra città ci sono nove nuovi casi mentre si registra solamente una guarigione. Intanto dopo due giorni di incoraggiante discesa torna a risalire il tasso di contagiosità nei tamponi rapidi effettuali al centro diagnostico Bonarroti. Sono stati eseguiti 237 controlli per i quali sono state riscontrate 11 positività dei positivi riscontrati, 5 sono risultati residenti a Civitavecchia, 5 a Santa Marinella e 1 fuori dalla distretto della ASL. Praticamente tutti i pediatri di libera scelta che operano nei vari comuni della ASL Roma 4 sono stati vaccinati. Stando ai dati forniti dall'azienda sanitaria, infatti ben il 99% dei medici che assistono i bambini si sono sottoposti alla vaccinazione. Diversi numeri per quanto riguarda invece i medici di famiglia e il personale sanitario della stessa ASL Roma 4, ma sui numeri dei primi due mesi di vaccinazione nel territorio dell'azienda sanitaria vediamo il nostro servizio. A oltre due mesi dall'inizio della campagna vaccinale, la ASL Roma 4 tira le prime somme del lavoro condotto all'interno del territorio di competenza. Ieri gli uffici di Via Terme di Traiano hanno infatti fornito i primi dati ufficiali della campagna suddivisi per le diverse categorie interessate. Su 323.595 residenti nei comuni che fanno parte dell'azienda sanitaria sono state finora vaccinate 23.682 persone, pari al 7,3% del totale. Diversa la risposta fornita dalle diverse categorie che hanno avuto la possibilità di vedersi somministrati i farmaci. Al momento sono infatti stati vaccinati 732 rappresentanti delle forze dell'ordine, 1.551 rappresentanti del personale scolastico e ben 5.449 operatori sanitari. Gli over 80, ovvero le persone che hanno compiuto e superato gli 80 anni attualmente vaccinati, sono oltre 6.000, per la precisione 6.220, mentre sono 348 le persone non autosufficienti che hanno potuto avere la somministrazione del vaccino presso il proprio domicilio. Particolarmente interessanti i numeri che riguardano il personale sanitario della ASL Roma 4. Alla data del 2 marzo, l'86% dei medici dipendenti della ASL Roma 4 era stato vaccinato. Leggermente più bassa la percentuale dei paramedici alle dipendenze dell'azienda sanitaria che hanno ricevuto il vaccino nella misura dell'81%. Interessanti anche i riscontri che riguardano i medici di libera professione. Tra i cosiddetti medici di famiglia, il 75% ha ricevuto la somministrazione del vaccino. Boom di vaccinati invece tra i pediatri di libera scelta. Praticamente tutti i medici dei bambini hanno accettato di vaccinarsi, per una percentuale del 99%. Intanto domani parte la prenotazione per i 79 anni e i 78 anni, ovvero per i nati negli anni 1942-1943. Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Gli interessati potranno prenotarsi attraverso il sito di Salute Lazio. Insomma, la campagna vaccinale va avanti, ma i numeri non sono ancora quelli che sarebbero necessari di fronte alla diffusione del contagio. La categoria del terziario della UGL torna ad attaccare il sindaco Ernesto Tedesco sulla vicenda del suo tampone effettuato tramite i privati e non nelle farmacie di CSP. Il primo cittadino ha dimostrato ancora di non conoscere il programma delle farmacie comunali, affermano i sindacalisti, si giustifica dicendo che il servizio dei tamponi presso le farmacie comunali si è attivo solo dopo i controlli che ha effettuato il 27 febbraio ed il primo marzo. Ma ciò non è vero, perché le sue farmacie comunali hanno avviato il servizio esattamente il giorno prima. Il problema rimane quindi la scarsissima conoscenza che Tedesco ha della sua stessa società. conclude la categoria del terziario di UGL. Terzo appuntamento con l'esecuzione di tamponi rapidi antigenici domani dalle 8.30 alle 12.30 presso la farmacia comunale Calamatta. Il servizio organizzato da CSP in collaborazione con la Croce Rossa Italiana rientra nell'ambito delle iniziative di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il direttore della farmacia comunale Calamatta, il dottor Dario Iengo ed il personale della Croce Rossa Italiana saranno a disposizione di tutti i cittadini interessati ad effettuare il tampone e ricevere l'esito nell'arco di pochi minuti. Il costo del servizio è stabilito in euro 17,90. E c'è preoccupazione tra i civitavecchiesi per gli effetti della terza ondata della Covid-19 soprattutto per l'effetto della cosiddetta variante inglese. Particolarmente censurato l'atteggiamento di quanti contravvengono alle regole riguardo il distanziamento ma sentiamo alcune impressioni raccolte in giro per la città. Cosa ne pensa della terza ondata? Non lo so, sinceramente non lo so come si fa a stabilirlo. Vediamo i tecnici, se ci indovinano stavolta, non lo so. Che pensiero si è fatto di questa situazione? Il cambio di governo, adesso i contagi che si stanno rialzando? Per Draghi, almeno per Draghi è positivo. Speriamo bene che riesca a fare quello di cui l'Italia ha bisogno. Certo, in questo momento servono i vaccini, se riesce ad averli, magari anche non ufficialmente come l'Europa, magari quelli di Putin, Sputnik, non so. Secondo lei quando ne usciremo da questa situazione? Non lo so, credo sarà molto difficile uscirne. E speriamo che non venga perché altrimenti bisognerà rimanere a casa. Però se evitiamo contagi e altro, la possiamo evitare naturalmente. Quindi dobbiamo rispettare probabilmente le regole. Quindi stare a casa il più possibile, sempre se non dobbiamo andare al lavoro. Noi studenti è sempre dovremmo stare più a casa, perché pure anche per rispetto per i nostri genitori o per i nostri parenti che sono un po' più vecchi o quello che è. Sei a favore delle aperture o preferisci che ci siano delle chiusure? Dei locali, dei ristoranti, del movimento delle persone in genere? Si può aprire, si può aprire affinché si rispettino le regole. Quindi se i ristoratori rispettano le regole, allora si vive più seneramente. Però bisogna rispettare le regole, sia chi ci va a pranzo, chi ci lavora. Così se la comunità funziona bene, la vita può proseguire. Tutte prendiamo le precauzioni, mascherina, distanziamento. Facciamo come la Sardegna, zona bianca. Invece se andiamo avanti così vicino, attaccati con una stagione di oggi, è un macello. Non è che magari queste giornate, quasi primaverili, possano cominciare qualcuno a non rispettare le regole, quindi ci troviamo in difficoltà poi? Eh appunto, per colpa di questi ragazzi che trovano queste belle giornate, siamo molto in difficoltà. Allora dobbiamo prendere questi provvedimenti. Per me se facevano un mese, tutte le città, zona rossa, stavamo ancora meglio. Comunque da andare così. Speriamo che finisce presto. Ci fanno i vaccini e tutto va bene. Anche se poi le persone che lavorano, non sarebbero state molto d'accordo, perché ci sono ritardi di storie, di sostegni per chi lavora? Infatti, proprio per loro c'è stata molta difficoltà ad andare avanti. Cambiamo argomento. Ieri abbiamo letto con Nasconcerto l'invito del sindaco, concordato con il direttore generale di Tireno Power, a visitare tutti insieme appassionatamente la centrale a gas e da ascoltare l'illustrazione del nuovo progetto per quanto riguarda il quarto gruppo, nonché i risultati di uno studio relativo alle possibili ricadute sul territorio, sia dirette che in termini di indotto. Il Movimento 5 Stelle spiega, così, di non essere d'accordo con la scelta del primo cittadino di accettare l'invito da parte di Tireno Power, ricordandogli che il Consiglio Comunale ha votato da tempo la netta contrarietà al gas. A quanto pare, scrivono i pentastellati, invece di dare seguito al mandato di tutto il Consiglio Comunale, dedicare le energie ad opporsi in ogni sede a chi ha intenzione di potenziare questi mostri sul nostro territorio, concorda Fantomatiche Gite insieme all'Oste. Forse il sindaco ha confuso il ruolo di autorità sanitaria con quello delle cerimonie dell'azienda che sfruttano la nostra città da anni. Se qualcuno avesse dubbi, comunichiamo che non parteciveremo a questa pagliacciata. Chiudono i grillini anticipando che parteciveremo invece alla conferenza dei servizi al Ministero per contrastare la realizzazione di questo progetto. È evidentemente giunto il momento di chiedere una volta per tutte all'ex vice sindaco della Giunta che autorizzò il carbone e attuale sindaco di Civitavecchia a che gioco sta giocando. La domanda è posta dal gruppo di potere al popolo in riferimento alla notizia che il primo cittadino, definito sedicente paladino dell'ambiente, abbia concordato con il direttore generale di Tireno Power in una visita guidata presso l'impianto di TVS per il prossimo 19 di marzo. In questa occasione i dirigenti e tecnici dell'azienda elettrica illustreranno al primo cittadino, agli assessori e consiglieri, il progetto per la realizzazione di un nuovo gruppo a turbogas. La coincidenza di questo indecoroso evento con le mobilitazioni legate allo sciopero globale per il clima previste proprio per il 19 di marzo scrivono da potere al popolo, fanno assumere all'iniziativa i connotati di una vera e propria provocazione nei confronti della nostra città. Evidentemente è stato frainteso il senso del mio invito ad assessori e consiglieri comunali tutti all'incontro che il direttore generale di Tireno Power mi ha chiesto se ho presentato ai nostri interlocutori che avrei esteso l'invito a tutte le forze politiche proprio perché non ritengo abbia alcun senso che io vada da solo a farmi illustrare megaprogetti da chi che sia. È così che il sindaco Ernesto Redesco risponde alle critiche del Movimento 5 Stelle e di potere al popolo spiegando che si tratta di un'iniziativa di massima trasparenza verso le forze politiche soprattutto quelle di minoranza. La correttezza istituzionale che deve contraddistinguere questa amministrazione spiega Tedesco mi impone di andare ovunque possibile quando invitato in qualità di sindaco. A maggior ragione in presenza di un tema di questo genere ho doverosamente ritenuto di coinvolgere tutti non per questo cambia quanto espresso dal Consiglio Comunale dalla mia maggioranza insieme all'opposizione e ribadito con atti dalla mia giunta in merito alla netta contrarietà al progetto in questione. E lasciamo questa polemica politica spostandoci alla questione usi civici potrebbe essere arrivata una nuova svolta nell'annosa e controversa vicenda. La Regione Lazio ha infatti diffidato l'Università Agraria di Civitavecchia e nominato nuovo perito demaniale che dovrà accertare la congruità delle recenti sentenze del commissario agli usi civici una decisione che viene salutata con grande soddisfazione sia dal Partito Democratico che da Fratelli d'Italia protagonisti di un piccolo presidio congiunto sotto i locali dell'ente di Viale Baccelli. Vediamo. Qualcosa si muove sull'annoso fronte degli usi civici ne danno notizia il segretario cittadino del PD Stefano Giannini per il quale finalmente la Regione Lazio ha deciso di muoversi in maniera risolutiva e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Simona Galizia e Vincenzo Palombo. Giannini informa che sarà redatta una ricognizione da parte di un perito demaniale nominato dalla Regione che dovrebbe valorizzare le nuove documentazioni venute alla luce nel corso degli anni. Secondo il segretario Dem inoltre le ultime sentenze che stanno progressivamente liberando diversi terreni dai vincoli confermano la giustezza della strada intrapresa e le scelte sbagliate dell'Università Agraria. Proprio ieri, conclude, è giunta la notizia di una diffida sempre da parte della Regione rivolta ai vertici dell'Agraria a motivo per cui ho incontrato Simona Galizia e Vincenzo Palombo proprio fuori la sede dell'Ente ai quali va rivolto un ringraziamento per il contributo espresso nella ricerca della soluzione. Nella consapevolezza che su tematiche di pubblica utilità gli steccati ideologici devono essere messi da parte per il bene dei cittadini Giannini ringrazia il Comitato Usi Civici Emanuele Larosa del Movimento 5 Stelle Vittorio Petrelli e Gino De Paulis. Per Fratelli d'Italia la diffida della Regione all'Agraria rappresenta un ulteriore passo avanti nella vicenda degli usi civici dopo la svolta propriziata dai propri rappresentanti alcuni giorni fa. Secondo i Melognani la Regione farà tornare alla normalità una situazione ingiusta e vessatoria che si è protratta per troppi anni e se ci sono state responsabilità nella gestione dell'Agraria è giusto che sia fatta luce. Galizia e Palombo dichiarano di attendere la nomina del perito e anche loro ringraziano i rappresentanti delle altre forze politiche di schieramenti diversi che si sono impegnate per sposare la causa dei cittadini. E online sul sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it l'elenco delle estimulazioni ordinarie che verranno effettuate nei reparti 10, 11 e 12 guglielmi del cimitero monumentale di via Aurelia Nord a Civitavecchia. L'elenco può essere consultato sul portale di CSP nella sezione Servizi Cimiteriali o accedendo direttamente dall'apposito banner e stimolazioni ordinarie presenti sull'home page. La stessa comunicazione è resa nota anche attraverso l'affissione di avvisi presso gli ingressi dei due cimiteri cittadini e quelli dei reparti interessati dalle operazioni. Quest'anno la campagna di prevenzione contro il tumore al seno è stata più importante degli altri anni. Ora è il momento di recuperare il tempo perso a causa della pandemia in tema di screening e controlli. Esordisce con questa frase il presidente dell'associazione In The Clouds Tiziano Leonardi che si occupa di prevenzione del tumore al seno sul territorio Civitavecchiese. La campagna che abbiamo realizzato si è svolta ogni lunedì di febbraio si concluderà in una giornata simbolo per la donna cioè l'8 di marzo con le ultime visite. Raggiungeremo il fantastico numero di 58 ragazze di età compresa tra i 25 e i 40 anni che hanno aderito alla nostra iniziativa sottoponendosi ad un'ecografia mammaria gratuita. E c'è anche un po' di Civitavecchia al Teatro Ariston di Sanremo il centro della cultura italiana in questa settimana dedicata alla 71esima edizione del festival. Per il terzo anno consecutivo infatti fa parte dell'orchestra la violinista Maria Letizia Beneduce ma dell'orchestra come secondo chitarrista fa parte anche Massimiliano Rosati musicista Civitavecchiese che ha fatto parte tra gli altri dei gruppi di Fiorella Mannoia e di Massimo Ranieri. E stasera Duilio Gagliotto sarà sul palcoscenico dell'Alison come accompagnatore di Daniele Silvestri. Apriamo la pagina sportiva parlando di windsurf dopo la pausa forzata per l'emergenza covid nelle ultime settimane la Lega Navale è tornata a vestirsi di Azzurro presso la roccaforte storica del windsurf locale ma anche italiano si stanno svolgendo alcuni collegiali delle nazionali giovanilli molto importanti perché i ragazzi stanno prendendo confidenza con la nuova tavola il FOIL che dopo Tokyo 2020 sostituirà l'RSX a dirigere il tutto un tecnico tutto Civitavecchiese che ha fatto le fortune del movimento tricolore ovvero Adriano Stella ascoltiamolo in questa intervista. Adriano Stella anzitutto Bernardo da Ciechia questa è veramente casa tua prima di queste settimane ci sono i collegiali della Nazione Italiana dirigi proprio tu come sta andando questa situazione che vede Ciechia sempre al centro del windsurf italiano? Ormai è un centro del windsurf internazionale non solo italiano perché è una costante da qualche anno è un ritorno a Civitavecchia perché insomma veniamo da qui siamo cresciuti qui e fa sempre piacere riportare la squadra olimpica a casa veniamo accolti da un meteo estivo che per noi magari non è proprio il massimo ma siamo sicuri insomma che il posto di casa ci saprà regalare le giuste condizioni per allenarci è la prima volta che arriviamo a Ciechia con la nuova tavola olimpica ed è un per adesso in fase progettuale ma contiamo di essere presenti il più possibile su Ciechia proprio perché nei mesi prima Merili offre condizioni climatiche piuttosto ideali per l'allenamento quindi stiamo un attimino valutando con la federazione se ci sono tutti i presupposti non solo in mare per rimanere qua a Civitavecchia a poco ne parleremo di questa nuova tavola perché ce l'abbiamo qui vicino come sta andando questo lavoro con i ragazzi con gli obiettivi che siete posti allora è difficile in questo periodo porre degli obiettivi notizia di questa notte sono stati annullati i mondiali RSX e FOIL di metà aprile quindi capite bene che è tutta una navigazione a vista un po' giorno per giorno rimaniamo con la testa verso le Olimpiadi guardiamo al futuro con il FOIL però le certezze vacillano come si dice e obiettivi sono quelli di imparare ad andare sulla tavola è una tavola nuova è un attrezzo nuovo quindi c'è necessità per tutti allenatori tecnici rimettersi un po' in discussione e imparare a conoscere l'attrezzo e la cosa più importante in questa fase sicuramente è quella di uscire in acqua e fare miglia su miglia per prendere dimestichezza e poi iniziare a fare lavori magari più specifici in ottica di competizioni chissà quando spazio al calcio domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il destino della Civita Vecchia e del campionato di eccellenza alle 11 in videoconferenza si terrà infatti il Consiglio federale della FIGC che dovrà prendere una decisione definitiva sulla possibile ripartenza tra gli ordini del giorno c'è anche quello di equiparare del campionato di eccellenza alla Serie D con un protocollo sanitario simile dopo la decisione del CONI che ha condiviso il principale campionato regionale può considerarsi di preeminente interesse nazionale domani è il giorno X si spera che in un senso o nell'altro si prenda una decisione definitiva per non lasciare ancora sulla graticola tante società e chiudiamo con una segnalazione che arriva dalla zona della Marina una nostra telespettatrice spiega che spesso la mattina capita di imbattersi in cani sciolti senza guinsaglio come invece prevede la legge che potrebbero rappresentare un pericolo per chi passa da lì soprattutto con dei bambini piccoli la signora spiega che non è presente nessun cartello e che ha più volte chiamato il numero della guardia locale senza ottenere risposta come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti bene era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale prima di lasciarci vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social facebook youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti